Dopo 18 anni il Genoa Cricket and Football Club cambia proprietà. Il presidente Enrico Preziosi ha formalizzato la gestione della società al fondo americano 777 Partners, con sede a Miami e filiali a New York e Londra e con interessi in altri club sportivi, nel calcio con il 6% della società spagnola del Siviglia e nel basket con la proprietà dei London Lions. Preziosi non manterrà nessuna quota societaria del Genoa, ma solo un incarico istituzionale, probabilmente quello legato ai rapporti tra il club e la Liga Calcio.